Il passaggio si è salato, io sono un passaggiatore ufficiale. Perfetto. Sperare che non piava. Sette alla Vergine, è una Vergine anche estrosa e direi... Ogni giorno, nuova cosa, non possiamo correre in buio possibile. Io sono un autodidatta, non ne ha insegnato mai niente nessuno. Se la proprietà di uno stabilimento, di un'azienda, decide di delocalizzare, se ne va da fuori. Ma la fabbrica e i macchinari devono rimanere in capo a chi lavora. È la Costituzione che ce lo dice. Articolo 41, 42 della Costituzione. Io ho finito questo, ma già sto pensando a quello che farò domani. Grazie. Grazie.